Mi rivolgo alle persone che si lamentano che hanno i problemi, si lamentano, pensate quanto è brutta la vita senza problemi, che ti svegli la mattina e tutto funziona, e che cazzo di vita è? Io tutte le settimane se non ho un problema mi sento inutile, mi sento, sono belli i problemi, sono bellissimi, a tutti piacciono i problemi, allora perché ce li creiamo? Perché ci piacciono? Ecco perché ce li creiamo, guardiamo pure i film thriller guardiamo, perché ci piacciono pure i problemi degli altri, vogliamo vedere come fanno ad uscirne Se la vita la vivo senza problemi, allora qui che cosa ci sto a fare? Che cosa mi avete mandato a fare qua? Che faccio adesso? È monotona la vita, sono belli i problemi, sono bellissimi, io frequento solo le persone che mi danno problemi Se non mi dai problemi non possiamo stare insieme, mi dispiace, non sei una persona problematica, vaffanculo, perché grazie ai problemi se diventiamo più forti, ecco perché ci piacciono, perché i problemi ci fortificano Io quando vedo un disabile gli dico buongiorno maestro, e certo perché lui è uno abituato a convivere con i problemi, e io devo solo imparare dal maestro, quindi viva i problemi, che sono l'intrattenimento della vita Grazie a tutti